Sta scappando, bigliacco, bigliacco Attenzione, magia, magia, portami via Comunque se si sa che gli scalini non bastano mai Ho bugato il server di The Legend Craft E' il classico detto popolare Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo un po' tornati su Minecraft Più precisamente nella OP Lucky Prizon Come sempre vi voglio lasciare un bel pollice in su Un commento, passate dalla descrizione Ci sono tutti i miei social e anche l'IP del server Nel caso voleste entrare a giocare E se volete mettete la campanellina accanto al tasto iscriviti E perlomeno varie alle notifiche per forza In teoria Ma prima di iniziare il video come al solito vi mostro La miniatura che ho fatto per oggi Che non so che giorno sarà in realtà E niente, miniatura molto semplice Racchiude in sé tutto quello che c'è da racchiudere Clash Royale E poi ho messo l'emblema di battaglie fra clan Perché in realtà era una battaglia interna al clan Umiliato e che è stato completamente umiliato dai miei fan dentro al clan Come vedete siamo nel mio PH Non c'è nessuno perché ho attivato la Vanish ragazzi Perché altrimenti mi si riempie di gente Non riesco a piazzare i blocchi E niente, mi sono settato queste cose qua Come vedete ho farmato un po' di soldi Ma ancora sono abbastanza lontano dal rank up Perché come vediamo Ranks mi manca ancora più di metà E li sto farmando piano piano con calma E durante le mie notti insonni E dentro queste ceste ci ho messo Voi direte Madonna cosa ci sarà qua dentro Legna, pietra e vetro qualcosina E un po' di torce E vabbè anche delle ceste Mi sono fatto dare da gente Chiedevo che aveva le ceste Perché tanto ogni volta mi servono E come sempre non ce le ho Quindi me le sono fatte dare piano piano Dalla gente che veniva qua Mi faceva trade e mi dava le ceste Vediamo delle stelle del nether nell'inventario Che sono semplicemente prese da qua Erano quelle che erano qua sopra Sono queste qua Perché ho queste nell'inventario Non nemmeno contate Ma io ho farmato un po' di token Che io in realtà non avevo mai guardato Quanti token avevo Da tipo tempo in memore E ho piano piano raggiunto La cifra di 2156 token Me ne servono quindi 450 per fare L'autosell sul piccone Allora Come vediamo In teoria ogni due stelle del nether Sono 64 Sono 64 token Ogni due stelle del nether Sono un token Qui semplicemente ce ne mancano Si è detto 450 64 120 240 360 480 Con tutte queste stelle del nether Siamo a 480 480 Adesso andiamo a Slash Warp Scambio E cliccando su scorpio O su manu Avremo le nostre nether star Ok Ha aggiunto un token Ha aggiunto un token Ha aggiunto un token Ma Come si fa a farlo Di massa C'è un modo Per scambiare Le nether star Per token In un colpo solo Mi dicono Magari Ah posso anche Tenerlo premuto Ok E allora niente Ragazzi Dobbiamo Aspettare Clicca sotto i tasti Non è vero Ovviamente faccio prima A fare così In realtà Cioè a cliccare Però Tenere premuto È più facile Quindi molto probabilmente Ragazzi Aspetteremo così Per un bel po' Potremmo fare tipo Lo scambio Anche non so Di 10 in 10 Quante non scambiate Ah beh In realtà Ho fatto abbastanza Facendo abbastanza veloce In realtà È che ne mancano Più o meno 3 stack Abbiamo già finito Quindi Si fa abbastanza veloce Col piccolo autosail Ragazzi In teoria Se in 8 giorni Farmo x Con l'autosail Ci dovrei mettere circa 8 giorni in meno Insomma Dai per farla breve Ok Con un totale di 100 click Ragazzi Sarà finita la nostra Tortura del vendere Le netherstar Durata per voi poco Per me giusto Non è abbastanza netherstar Ok Dovrei avere quindi Token 2660 Ci va benissimo così Adesso andiamo al Warp Kratis Se non scrivo Warp Da po' Parti Warp Kratis E in teoria Dovremmo esserci Esattamente Enchant Si però Se non prendo il piccone Excavation Autosail Tanto si riempie di gente Anche quando non ci sono Ma quello è un dettaglio Andiamo qua Autosail In teoria Basta cliccare qua Col desto Dovrebbe avere autosail Il mio piccone Ok Adesso il mio piccone C'ha anche autosail Esattamente Che il livello massimo È 1 Andiamo un secondo Al Warp X Warp X era Slash god abilitato Per sicurezza Per non morire Mentre avevo il piccone Con autosail Vediamo un po' ragazzi Quanto è più veloce Io prima in teoria Dovevo mettermi a breve A fare Slash Sl Mentre adesso Io mentre scaverò Dentro questo Ben di Dio Smeraldoso E doroso Succederà questa cosa incredibile Che mi si svuoterà All'inventario Dicendomi Hai guadagnato Soldi Errore Probabilmente Sarebbero 5 milioni No Di più Per forza Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Se stavolta Magari non si bugga Tanto non mi hanno In moltiplicatori Guarda Si bugga tutto Item prezzo Venduto Ma è tutto Buggatissimo Dovrò farlo presente Ragazzi a Scorpio Perché Non capisco Se è Buggato Ma funziona Oppure no Perché faccio solamente 5 milioni È buggato veramente Non è possibile Faccio solamente 5 milioni Aspettate che c'è qualcosa Ragazzi che non quadra Ok ho l'inventario Semi pieno Sell 37 milioni Ho fatto in questa maniera Ho fatto in pratica 60 milioni Ok torna Faccio 60 milioni A scavata 70 Oh non lo so Sto facendo un conto Magabro Probabilmente Vabbè lasciamo perdere Ragazzi Non so contare Si è buggato tutto Ho buggato il server Di The Legend Craft Con il mio piccone Con Excavation 1 Perché Scusa Excavation 2 Autocell 1 E boh Doverò un secondo Far presente Agli helper A Scorpio Sta succedendo Per capirne di più Qui tanto si picchia Ragazzi Parte il pvp Matto Attenzione ragazzi Parte il pvp Parte il pvp Matto Attenzione Uuuuh Eeeh Va in zona franca In zona franca Si picchiano uguale Attenzione Madonna ragazzi Un incontro incredibile Nessuno molla la presa Attenzione Ma Ma già 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 Attenzione Lui Lui sta dicendo Ok è finita È finita Li sta mangiando la mela d'oro Attenzione la mela d'oro La mangia Attenzione Riparte tutto Riparte tutto Buttava una pozione Ragazzi Buttava una pozione Se ha levato l'elmo Gli si è rotto l'elmo Attenzione se l'hai rimesso Madonna mia Un incontro incredibile Non finisce più Divertente avere l'armatura overpowered Vedremo Chi avrà la meglio sull'altro Attenzione Uno scontro a cuore incredibile Non si bada a spese Perché a volte uno si infuola E l'altro no Perché tu non c'hai fire aspect Attenzione ragazzi Ci faccio più Ho finito il fiato ragazzi Attenzione Sta scappando Sta scappando Bigliacco Bigliacco Si picchiano Ancora ragazzi Ma è infinito Sto pvp Raga Non finisce più 76 anni dopo Ancora loro che si picchiano Come dei fabbri Ragazzi Interferiamo dentro Nel combattimento Interferiamo nel combattimento Ragazzi Buttiamoli giù Buttiamoli giù Buttiamoli giù Facciamo riprendere Danno da caduta Ragazzi È il modo migliore Li sto debilitando Un secondino Non capiscono più Un cazzo Dove cazzo siamo È diventato un'arena Ragazzi Stiamo creando lo scompiglio Ragazzi Stanno ancora combattendo Scappiamo di sotto Sotto Boom Danno da caduta Per entrambi Ancora Ancora E ancora È dato da caduta Infinito Attenzione Magia Magia Portami via Attenzione Uno giù Due giù Tre stelle Attenzione Si crea una scala Una serpentina mortale Tutti che si picchiano Raga Basta Ok È finita ragazzi È finita Perché Non è caduto L'unico Che doveva cadere Magia Magia Maga giga Ragazzi Che era quello Che voleva uccidere L'altro R Ti violento La madre Ma perché Basta Qui c'è sempre pieno di gente Ragazzi Io volevo fare semplicemente Inizialmente Una piccola cucetta Perché tipo ad esempio Case del genere Ragazzi Sono veramente Incredibili queste case Sembra tipo la casa di Tony Stark In Iron Man Cioè Ditemi se non è bellissima Non ha niente di che In realtà Cioè È piuttosto vuota Come casa Ma è figa Cavolo Cosa lì Spettacolare Ad esempio Molto È un concept Molto Molto tranquillo Sa il fatto suo Sa quel che vuole Io più gioco in un'altra sega E poi c'è anche L'anticamera Che è il bagno No Via E col tappeto rosso Il red carpet Poi arrivi indietro Non c'è una segaccia Nulla Ma quello è un dettaglio No ragazzi Sbucci non è lì Sta scavando ora Dove Io non sto scavando Proprio da nessunissima parte Io ragazzi Non sono un mago Né un campione E ho fatto un po' di legno Lì con l'accetta Con Eh Oh 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 Però in teoria Mi pare che Le scalette si possano craftare Esattamente Quindi Facciamoci un bel po' di scalini Che Comunque se si sa Che gli scalini Non bastano mai È il classico detto popolare Non guardare in faccia Nessuno scalino E vorrei fare ad esempio Delle colonne Perché io non sono mai stato Un builder professionista Anzi Proprio manco per il cazzo No Vorrei fare tipo Una casettina qui Che entri qui Così Easy No Le colonne ovvero Racchiuse qua dentro Colonne fatte tipo di Questo Tanto mettiamoci la fly Così almeno siamo tipo in Oh 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 Vorrei fare ad esempio Ad esempio adesso L'ingresso E poi continuarlo Nei vari episodi Con voi che mi dite Come farlo Intanto dobbiamo iniziare Facendolo Simmetrico Intanto per iniziare Questi diciamo Stendardo in capo E in te dovrebbero essere Simmetriche al plot Esattamente Lasciate fare le ceste dentro Che Che Comunque sia Però ci sono Allora Poi Io volevo far si che Fosse così anche al contrario No Vedi Eh no Vedi non così Ok Ah era più semplice Di quanto pensassi Ragazzi basta metterle Dritte per dritte E il gioco è fatto Vediamo un po' Se abbiamo un'idea dell'anno Ragazzi Anzi non un'idea L'idea dell'anno Vediamo se qualcuno Ha già capito ragazzi Ma voi avete già capito Lo so che l'avete già capito Tide le va dal cazzo Ok E glowstone Però la glowstone Non so come Capito Tipo una cosa del genere Guardate In teoria Con la glowstone Sarebbe molto più figo Però tipo una torcetta così No Tipo un ingresso Vedete Tide Vedi perché ragazzi Io non Non voglio gente nel coso Perché Non posso piazzare i blocchi Zabra O ti levi O ti levi Non ne fanno Scorbuti Cosbucci Ma perché Ti devi mettere qui Mentre sto costruendo Se adesso lui per caso Fosse FK E loro gli si mettono accanto Io devo chiudere il video qua Perché lui sta qua Non mi sembra Una cosa intelligente Mettersi qua sopra Mentre sto costruendo Slash P Ban Bam Ops Sparito Allora Adesso facciamo così 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 Allora L'ingresso ce l'abbiamo E fa anche abbastanza cagare Però è molto tranquillo no Cioè nel senso Poi abbellino È molto È molto easy Come ingresso E poi da qui partirà La nostra casa Io direi di farla ovviamente Sopralevata Perché metti caso Esce l'acqua dal fiume Eh Come si fa Quindi questo è il cubo centrale Del mio PH Oppure faccio L'entrata a tre porte La classica è entrata a tre porte Non credete Ti devi levare Vedo che avete capito tutto il volo no Bene Ha funzionato Direi di farlo così Però Fa un po' cagare questo ingresso No invece ci sta Ci sta Ci sta come ingresso Ma che gusto c'è a fare le scale Mentre io costruisco Me lo spiegate Bucci mi sbanni No Non ti sbanno Bucci sei cattivo No Più che dirlo Non mettetevi nei blocchi Dove sto costruendo E che devo fare Voglio dare oggi ragazzi Voglio dare solamente la forma All'ingresso Della casa Se me lo fanno dare Che poi ovviamente ragazzi Le chest verranno Completamente Spostate Oppure Ancora più semplicemente Tipo incassate Cioè potrei anche semplicemente Tenerle dove sono E tenerle un po' incassate Le chest Vedete l'esempio Dark shadow No Tu adesso sei qua dentro E se tu una vela fly Tu sei bloccato qui Vedi tu mi hai fatto appena Bloccare Mettere un cubo qua Perché tu sei qui fermo Per fare un pavimento Ci sto 72 anni Per favore Per favore Zabra Red Va bene raga Slash Addio Puff Questo dovrebbe essere L'inizio della mia entrata E vorrei valorizzare un sacco Questi scalini io Ad esempio Si fa cagare Però potrei Potrei anche Ragazzi Fare una cosa del genere Vediamo un po' Com'è Se è viable Non lo so Buo ragazzi Ho sicuramente bisogno Di un consiglio di design Qui eh Però Vediamo un po' Che effetto fa Con la roccia Raga Continuano A mettersi Qua Eh se tu vedete Apparsa Bravo Vedi Vedi così Non ci vuole molto Cioè è un muro di legno In mezzo a un muro Di Di cosi In mezzo a un muro Di mattoni Mi serve indubbiamente Il vostro aiuto Dico Potrei fare ragazzi La casa è sferica Ad esempio Qui viene tipo Ancora avanti tipo di tre E poi si inizia a richiudere E la chiudo Ovviamente in maniera simmetrica Ok Ed è tipo una specie di palla Vista dall'alto Poi da qui parte un corridoino Che è tipo Dritto E poi si estende in una stanza Che è fatta anche quella In maniera sferica Poi da quella stanzina Magari ne partono altre due Sempre in maniera sferica E viene tutta una casa In maniera concentrica E sferica Carina Potrebbe anche starci Non credete Fatemi sapere nei commenti Se vi piace questa idea E quali materiali dovrei utilizzare Anche perchè sono più o meno Riperibili tutti Perchè basta che vado In qualunque pH Cioè in qualunque warp Scusate E meno per un quarto d'ora E ho tutti i materiali del mondo Quindi spero che il video Vi sia piaciuto Vi ho fatto vedere il concept Della casa che voglio Sono riuscito a raggiungerlo Mentre ero qui con voi Quindi grazie anche a voi Mi dispiace perchè Ho dovuto bannare dal pH Ma Non ci vuole molto A capire Che non devi metterti sul cubo Che sto piazzando E quando ti dico Sposta Ti devi spostare Ma non perchè Sono stronzo Perchè insomma Devo fare delle cose Ho fatto il piccone Nella autosel Finalmente Quindi spero che La prossima volta Quindi non questa settimana Ma dovrebbe uscire La prison Dovrebbe uscire tipo Lunedì Non questo Quello dopo Più o meno All'incirca Secondo il mio piano di video Che devo registrare Dovrebbe uscire Nella lunedì prossimo E quindi in teoria Forse dovrei anche riuscire A fare rank up Adesso ho fatto autosel Speriamo Anche se in realtà Non vedo d'ora Che mettano Il kit leggendario Anche qua Perchè il kit leggendario E tanta roba Quindi come al solito Vi ricordo di lasciare Un pollice in su Un commento Come ho già detto Per la casa Eccetera eccetera Anche per il continuo Della serie E per il canale Noi siamo comunque Al prossimo video Per questo vi è tutto Ciao nini 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 Grazie a tutti.